Bella a tutti ragazzi, mi vengono in questo nuovo video, io sono Zgimpro22 e niente ragazzi, vedete tutto nero, perchè vi volevo dire solo una cosa cioè due cose vi volevo dire una che forse aprirò un altro canale e chiuderò questo perchè questo diciamo che non è proprio quello che mi aspettavo e anche perchè mi hanno bloccato l'account principale di questo canale e quindi forse aprirò un nuovo account con il nome dell'account che ho che è nato da Call of Duty Black Ops 1 giocando a fare i trickshot e robe del genere e niente, la seconda cosa invece che vi volevo dire è che sono passato a PS4 per chi mi vorrebbe aggiungere metto il nome del mio account in descrizione e ragazzi un'ultima cosa è che sono riuscito a passare con 130 milioni veramente epico e cioè con questi 130 milioni io credavo, mi aspettavo che mi bannavano invece niente proprio zero e quindi io ora mi sto comprando auto mi sto il livello solo che me lo devo fare ancora e niente ragazzi se aprirò questo nuovo canale vi avviserò subito e niente ragazzi noi ci vediamo al prossimo video bella grazie a tutti